Sono Paola Martini, direttore del Museo Diocesano di Genova e membro del direttivo MEI. Siamo qui in questa settimana dedicata al MAB per spiegare appunto come si riesce a lavorare intrecciando la documentazione storica e materica con la documentazione imprescindibile che viene offerta dagli archivi e dalle biblioteche. In una settimana che vede soprattutto in tutta Italia ma anche nella nostra Liguria ovviamente lavori che cercano di far vedere come fare cultura e spiegare i beni culturali sia metterli assieme e in relazione. In questa settimana come a MEI promuoviamo anche le giornate dei musei ecclesiastici che ci si terranno l'8 e il 9 di giugno e all'insegna del SES Cambio Cambio ossia anche qui un lavoro di intreccio, di relazioni tra i vari musei all'interno della stessa diocesi ma all'interno anche della stessa regione e dello stesso paese. Per me il MAB è intreccio.